La MSC Orchestra è la seconda nave della categoria musica della compagnia italiana MSC. È stata inaugurata nel 2007 e dispone di 18 ponti. Le cabine accolgono fino a 2.550 passeggeri e sono tutte dotate di minibar, televisione, telefono, armadio e cassaforte. Potrete scegliere tra cabine interne, esterne o con balcone. Per ulteriore comfort consigliamo una suite. Molto apprezzati sono gli spettacoli e gli show al teatro Coven Garden, dove trovano posto fino a 1240 ospiti. Avete dimenticato gli occhiali da sole? Nessun problema, nei negozi duty free trovate tutto quello che vi può servire durante la vostra vacanza. Benessere e fitness non mancheranno a bordo della vostra crociera. Rilassatevi nella spa, dove consigliamo in particolar modo il massaggio Thai. Chi invece desidera fare un po' di sport può dirigersi verso il centro fitness. A pranzo e a cena potrete scegliere tra una grande varietà di piatti. Gustoso pane casereccio, vera pizza italiana o specialità dalla Cina. Nel ristorante cinese Shanghai tutto è decorato per farvi sentire come in Oriente. Dopo un romantico tramonto sul ponte, concedetevi un cocktail in uno dei 16 bar di bordo. Sia nel bar Savannah, tra elefanti e leopardi, sia nel Purple Bar, troverete sempre un'atmosfera accogliente e vivace. Continuate poi la serata con le feste organizzate in discoteca. A bordo della MSC Orchestra vivrete una vacanza indimenticabile. Prenotate subito una crociera Dreamlimes e riceverete in omaggio un buono di 50 euro da spendere a bordo. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web o contattateci al nostro numero verde gratuito. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web.